Che è sta stufa? Ma come? Quando il ghiaccio si squaglierà, tu ti abbasserà. La corda si tenderà e zac! Come mai mi trovo in questa situazione? Stavo mangiando al ristorante quando... Svento? Dai, questo conto. Ma chi sono? Tu ci stai seguendo. Perché? No, io seguivo Girl, ragazza, senza baffi. Tu hai sgamato che non so scozzese, eh? No, io credere le scozzese. MacPherson, MacGregor. Questo ha scoperto che ti sei truccato per beccare l'eredità, MacGregor. È meglio farlo fuori subito. E così, eccomi qua. Amore mio, dove sei tu? John, stai nei guai e canti. Certo, perché io ho fiducia. Ma, ma non è questa la stanza della cassaforte? No, tre soffitti a destra. Hai visto? Te l'avevo detto io. Avete visto? La cosa più importante è la fiducia. Anche per me è la cosa più importante. Infatti, quando voglio una crescenza o uno stracchino di fiducia, pretendo sempre Certosa o Certosino Galbani. Lo scarti, lo tagli, come sempre morbido e fresco. Certo, è Certosino. Lo tagli, lo mangi. Mmm, com'è gustoso. Certo, è Certosino. E a me? A te ne do quanto ne vuoi. È così digeribile. E oltre ai buoni punto, ora Certosino regala una posata di plastica. E ricordate, Galbani vuol dire fiducia.